Nel 2013 sono 992.000 in aumento del 2,4% rispetto al 2012 i lavoratori nel settore agricolo. Aumentano anche la produzione, più 3,3% e il valore aggiunto, più 4,9%. Cala invece del 6,3% il numero delle aziende agricole, che rimangono comunque più di 1.500. Questi dati principali contenuti nel report Istat sui risultati economici delle aziende agricole italiane. Il sistema delle aziende agricole risulta caratterizzato da una forte presenza di unità di piccole dimensioni. L'80,7% delle aziende impiega meno di un'unità di lavoro e l'88,6% realizza un fatturato inferiore a 50.000 euro. Il 96,7% è costituito da aziende individuali e il 97,5% è a conduzione diretta. Le aziende agricole che producono esclusivamente per l'autoconsumo rappresentano poi il 10,4% del totale e realizzano rispettivamente lo 0,3% e lo 0,2% della produzione e del valore aggiunto nazionale. Le unità produttive multifunzionali, che rappresentano una quota pari al 9,6% del totale, hanno invece un peso significativo in termini di occupazione, valore della produzione e valore aggiunto sui corrispondenti totali nazionali.